Lotto 235, Italia, Regno e Repubblica, lotto di oltre 170 cartoline, in quest'album e in questa busta, vediamo di che si tratta. Queste sono tutte cartoline postali, tipo leonica, con varie affrancature, risposte. Con qualche francobollo aggiunto, come vedete è archivio di famiglia, il destinatario è sempre lo stesso. Questo è un mazzetto, saranno 50-60 cartoline, grossomodo. Vediamo l'album. Dobbiamo sollevare la camera. Aspettate che prendo un sostegno. Grazie a tutti. 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 Se volete altre notizie, video e informazioni, iscrivetevi al negoziocchioccio.com Grazie a tutti. Grazie a tutti.